La ricercatrice franco-iraniana Fariba Adelka è ricoverata da domenica scorsa nell'ospedale della prigione di Teheran, dove è detenuta dallo scorso giugno. Adelka, antropologa celebre per i suoi studi sulla società iraniana post-rivoluzione, era stata arrestata assieme al compagno, il sociologo Roland Marshall, con l'accusa di spionaggio. Nonostante le accuse siano state in seguito ritirate, i due sono rimasti in carcere perché, stando alle autorità, rappresenterebbero una minaccia per la sicurezza dello Stato. Per protestare contro questa decisione, lo scorso 24 dicembre, Adelka ha cominciato uno sciopero della fame che, stando al suo legale, l'ha debilitata fisicamente, rendendo necessario il ricovero. Sono diversi i cittadini con la doppia nazionalità detenuti in Iran. Dall'anglo-iraniana Nasanine Zaghari, condannata a cinque anni con l'accusa di avere partecipato ad un complotto per rovesciare il governo, al sino-americano Shee Wang, studente accusato di spionaggio e rilasciato lo scorso dicembre, dopo tre anni di reclusione, in uno scambio di prigionieri tra Iran e Stati Uniti. A Parigi, amici e colleghi di Adelka e Marshall hanno manifestato più volte per chiedere la liberazione dei due studiosi.